Europei di volley, l'Italia vince sulla Francia e vola in finale domani sera a Roma la sfida contro la Polonia alla presenza del capo dello Stato Mattarella, diretta su Rai 1, Alessandra Barone. Testa e cuore per vincere, lo ripete come un mantra ad ogni punto Alessandro Micheletto, l'Italia li ha entrambi. 3-7 a 0 contro i francesi campioni olimpici allenati dall'ex azzurro Andrea Gianni, la partita perfetta per una vittoria che vale la finale europea. Siamo stessi in campo con la giusta attenzione, con la voglia di dimostrare che ci meritavamo questa finale primo-secondo e sono orgoglioso della mia squadra. Il talento dei singoli, dagli schiacciatori al capitano Giannelli, regista capace di stupire ogni volta con le sue prodezze sotto rete. L'intesa perfetta del gruppo, costruito dal Cittife Fede Giorgi, incanta 10.000 ai tanti tifosi da casa, come Marco Mengori, la sua gioia sui social. In due anni la vittoria di europeo e mondiale, l'anno scorso proprio contro la Polonia, stessa avversaria di domani. E' emozionantissima, all'ultimo fiato, stiamo giocando benissimo. Al Palaeor di Roma ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una squadra bellissima da vedere, che gioca bene e fa divertire. Fortissimi, grandi, domani saremo qui ancora. Gravi!